Musica Le nostre telecamere sono a Spello, sul posto c'è per noi Cecilia Porro che cercherà di guidarci in questa visita virtuale nel borgo di Spello dove potrete andare se avete del tempo libero. Cecilia, allora che cosa ci proponi? Buongiorno da Spello, uno dei borghi più belli d'Italia, il luogo da cui vi parliamo e che vi mostriamo stamattina è davvero un gioiello che da solo vale la visita e vale il viaggio siamo nella chiesa di Santa Maria Maggiore, questa è la cappella Baglioni completamente affrescata dal pintoricchio del 1501 come ci sono il sindaco di Spello Moreno Landrini e c'è lo storico dell'arte Giulio Proietti Bocchini allora cominciamo subito a parlare di questa magnifica cappella, abbiamo detto Baglioni, una committenza, una famiglia che in Umbria e a Spello hanno lasciato il segno cosa ha fatto per loro Pintoricchio? Il Pintoricchio viene dalla Roma di Papa Alessandro VI e riceve da Troilo Baglioni che è il priore di questa chiesa un grande incarico, quello di affrescare quella che poi sarebbe stata consegnata alla storia come la cappella bella proprio perché segna il punto di eccellenza di tutta l'attività pittorica del grande pittore Umbro qui il Pintoricchio seleziona un progetto iconografico che esalta le virtù della titolare di questa chiesa ovvero Maria quindi nella scena dell'annunciazione che si trova alla sinistra di chi entra Maria è presente come vergine, come giovane che riceve dall'arcangelo Gabriele la notizia appunto che sarà lei a portare in grembo il figlio di Dio nella parete più importante, quella centrale, è rappresentata la scena della natività che in sé contiene anche l'episodio dell'adorazione dei pastori e dell'arrivo dei magi chiude il progetto iconografico, il programma iconografico, la scena della disputa dove Maria è consorte, è coniuge di Giuseppe e si trova in primo piano l'opera è così ben riuscita per il maestro narratore e decoratore della nostra cultura figurativa tra 4 e 500 che Bernardino Di Betto decide di metterci la faccia e quindi nella scena dell'annunciazione lascia il suo autoritratto con sotto il cartiglio del suo nome e questo è proprio il segno della sua principale opera qui a Spello Benissimo, allora da un'opera d'arte, arte che dura nel tempo e che porta benissimo i suoi 500 anni di storia passiamo a una forma d'arte che invece dura soltanto poche ore Sindaco, cosa significano per Spello le infiorate? Sì, intanto buongiorno Umbria, grazie a Rai 3, grazie ai borghi più belli d'Italia siamo qui in un luogo straordinario come già detto per cui Spello e l'Umbria è conosciuta nel mondo ma Spello e l'Umbria è conosciuta nel mondo anche per la manifestazione principale della città che sono le infiorate di Spello e da qui Spello città d'arte dei fiori Spello è stata così fortunata dalla storia che è così ricca di patrimoni e di beni culturali che quest'anno sarà nuovamente al centro nazionale e internazionale con l'inaugurazione del polo museale ed archeologico della Villa Romana visitato qualche tempo fa dal ministro Dario Franceschini e baciato da un importante contributo ministeriale insieme agli uffizi a Colosseo quindi un appello, colgo l'occasione per lanciare un appello che i visitatori tornino in tantissimi perché il flusso si è interrotto purtroppo dopo il sisma e un appello alle emittenti nazionali che puntino i loro riflettori su questo tratto d'Umbria così bello, così affascinante, così romantico, grazie E come avete visto di motivi per venire a Spello ce ne sono moltissimi questo per ora è tutto, linea allo studio Grazie Grazie